Si può raccontare con un'immagine quello che ancora non c'è e questa è la sfida che abbiamo lanciato a 50 fotografi italiani e internazionali, rappresentare in un solo scatto il mondo che verrà, il mondo che verrà dopo, dopo questi giorni drammatici e difficili. Ciascuno ci ha regalato la sua visione del futuro e queste visioni sono sogni, volti, paesaggi, sono dettagli ravvicinatissimi o invece frammenti che sembrano già promesse, utopie. Per iniziare a guardare oltre, per iniziare a guardare avanti, per fissare in un istante il tempo che ricomincia finalmente a scoprire. Il mondo che verrà è il titolo della mostra che inaugura a metà maggio e grazie a tutti i fotografi che ci hanno aperto questo orizzonte di possibilità.